Quattro mesi per combattere e difendere il proprio posto di lavoro. Alla Roland Europe di Acquavia Picena continuano le mobilizzazioni dei 150 lavoratori contro la corporation giapponese che ha deciso di chiudere lo stabilimento e il 21 novembre primo appuntamento con i liquidatori e Confindustria. Con i lavoratori della Roland in agitazione per la decisione della dirigenza di mettere in liquidazione lo stabilimento di Acquavia Picena, Luigi Pignoloni della FIOM CGL, qual è la situazione e quali sono le vostre proposte? La situazione come avete saputo già da una settimana è drammatica perché qui ci sono 150 famiglie ma nessuno pensava che arrivasse la notizia della liquidazione perché come avrete saputo anche dai giornali questa è un'azienda attiva che ha un bilancio positivo, è un'azienda che produce, progetta, produce e vende quindi nessuno pensava che potessimo arrivare a questa situazione. Che tipo di soluzione ci può essere? Noi come RSU speriamo di riaprire la situazione, speriamo che la decisione della liquidazione non sia definitiva, a quel punto decideremo cosa fare. Abbiamo qui anche una lavoratrice, Patrizia Taffoni del settore delle fisarmoniche nel quale la Roland è conosciuta in tutto il mondo. Cosa producete, in che modo si svolge il lavoro all'interno dell'impianto e qual è la sua reazione, qual è stata la sua reazione a questa notizia? Beh certo, io faccio la realizzazione della fisarmonica, non mi aspettavo questa decisione quindi noi lotteremo fino alla fine, fino a quando questa realtà venga messa di nuovo in discussione. La fisarmonica naturalmente è l'ultimo gioiello della Roland, un prodotto molto valido, molto conosciuto in tutto il mondo. Siamo rimasti sorpresi di questa situazione e speriamo che possa migliorare queste condizioni. Se pensa al futuro prossimo riguardo alla Roland, lei è pessimista o crede che ci possa essere qualche spiraglio? Io penso che ci sia, è possibile avere qualche spiraglio perché noi siamo molto professionisti, molto, molto e molto e possiamo lottare. Grazie.